ma stasera li distruggo mamma mia c'ho come le bombe c'ho basta basta siamo in barcelona 9 in the morning we off to a dance today i will be at steam club we are having bitter fruit and then off we go my name is Tony where Anthony I am very beautiful a good person are you ready to fly ok Steve what's up what's up guys we just arrived in Athens we are waiting for the promoter to pick us up i'm very pumped up a lot of energy i know i have this feeling i know it's gonna be a bomb night thank you thank you thank you thank you hello wow enjoy your stay thank you hello people hi wow ready 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 not bad not bad not bad let's check the view oh amazing view yeah bellissimo on the laundry of someone else amazing view let's go out i wanna go out Ok, il club è qui, oh ecco qua, steam, let's go, Luis mi fai una foto per favore con Mike? Come no, io so fare tutto, anche le fotografie, Alex 2 ha la foto, 30, sì, got it, amazing, thank you Luis, you're welcome The strobo is important, the... No, we have good glides, it used to be an olfactory, this one, that's why they call it like this Ah, quasi, it's nice to listen, I want a little snack, yes About the situation, the DJ situation, no, no No, with sleepers, sleep, with underwear, underwear No, la chiave! Eh, ma tu hai chiuso! Dio, è la tua stanza, devo prendere io la chiave, let's go down Ah, porca vacca, wow, micchia, che figata Wow, what is that? Un partenone, wow, amazing Do partenone, amazing place, amazing city Sai che questo non è male come slow motion, eh? Sfondo tutti stasera, I'm gonna rock it! Ah, 2 o'clock, is okay with you? Eh, a little before, 1.45 Ok, quarter to two, all right Quarter to two, pick up Ok, see you later, yeah, thanks, bye bye Thank you Mike, see you later Stay way in Athens, boom! Ho ammazzato. Cosa c'è? Le ammazzo, proprio No, 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 no Tu tu guardo la tua sport Tu? No. 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 No No. No. No, no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, è finita la serata, siamo venuti qua sopra a vedere l'alba e mentre mi facevi i video, sono finito nella pozza e mi sono bagnato tutti i cazzo di piedi. Ok, hai chiuso un bellezza, hai preso l'uomo. Questo non me lo meritavo perché stasera è stata una bella serata, questo non lo meritavo. Poi sei noti, l'unica con l'acqua su cento che ci sono è quella lì dove sono andato dentro io con tutti i piedi. Beh, bravissima, bravissima. Mi sono bagnato tutti i piedi. E' bravo, bell'idea, anzi. Queste mi fanno piacere dopo. E' due. E' due. Buongiorno, room. Perché a me mi portano le valigie, mi apro anche la porta. L'energia è infinita comunque, è sempre qua a pressare, a progettare e fare. Senza aver dormito. Stip, dove sei? L'aerporto e poi in Barcelona. L'arporto. 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 L'arporto.